Allora, sta per iniziare il terzo turno, abbiamo sempre il maestro Fide Birk Maxion in prima scacchiera contro Emma Graziani. Emma ci dai il permesso a registrare? Perfetto. Grazie mille e buona partita. Grazie mille. 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 Grazie a tutti. 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 Buon appetito. Grazie a tutti. 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 . , grazie a tutti. Grazie a tutti.